Ciao a tutti ragazzi, sono Bernic, oggi siamo qui nel nuovissimo video e nella nuovissima serie di Rainbow Sixage e oggi volevo fare una partita in libera, non in classificata perché no, sono scarso e voglio allenarmi quindi voglio fare una libera comunque vi invito a lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale, attivare la campanellina e condividere questo video con tutti i vostri amici e poi volevo dirvi di seguirmi su Instagram che vi lascio il link qui sotto in descrizione e niente, noi siamo qui che è appena iniziata la partita e niente, speriamo di vincerla allora, ok raga io ho scelto Capcan, i miei amici hanno scelto Bendy, Telesion e Caveira raga, mi dovete consigliare quale brawler, si quale brawler, quale operatore speciale, cioè quella 25.000 mi dovete consigliare un nuovo operatore, perché non so quale prende, io ero indeciso tra Legion e Frost e... 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 e bombi tra Legion e Frost adesso sto mettendo quale trappole le mettiamo un po' a cale levatevi tutti ok ok io le trappole non vi consiglio di metterle nelle porte cioè le porte lì all'inizio, cioè porte solo queste e quelle là io vi consiglio di mettere un po' a random, dove nessuno se lo aspetta io mi frattempo rafforcio, voglio a cale questa mappa vi dico che non la conosco eh ok no Bandit ok ragazzi non... in silenzio vuol dire che sono concentrato eh cos'è qua? oh cambio caricatore ah vabbè raga no io non voto per esplosione vabbè dai raga fai niente il primo round c'è sta, c'è sta come vedi raga eh cioè io sono abbastanza cioè sono un... una persona normale a giocare adesso qua andiamo... no avraiato andiamo qua dove è andato l'altro e ci prendiamo Ash perchè questa mappa non la conosco proprio perchè come avevo detto prima è da un botto di tempo che non gioco quindi 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 non so le mappe nuove ok raga ci siamo eh nooo che non... vediamo va bene cosa qua eh deception eh e vabbè Ricarico! No, ho sperato, raga, solo che non l'ho fatto in tempo, no, va bene. Non mi ho detto che non sono andato a dare niente, raga. Dai, ma che magra e al porco, due. Va bene. Raga, io scelgo sempre CapKan, perché a me, come operatore, mi piace veramente tanto. Non so perché, mi piace tanto. Quindi mi tengo CapKan. quindi cosa mai consigliatemi voi quale operatore usare nelle varie mappe magari un commento vi piacerebbe avere visto di questo genere e chi lo fa lo ringrazio molto e ringrazio anche molto chi mi consiglia quale operatore comprare li ringrazio veramente molti e chi commenta gli lascia un cuoricino adesso io non so dove metterli io metto un po' random vedete raga io l'ho messa a caso proprio a caso ok adesso vado lì a io facendo così faccio sempre un botto di kill e dove che li metto oh ma cosa fai non si può mettere vedete raga vedete guardate vedete raga ho fatto un ho atterrato uno forco 2 non l'avevo visto ricarica perché non l'ho beccato eh ma io ho sparato ah marco 2 allora raga sta partita è andata malissimo allora ragazzi io vi saluto ci rivediamo in un prossimo video di Rainbow Sixage e nel prossimo video che non so qual è allora ragazzi io vi saluto e vi ricordo di lasciare un bel mi piace iscrivervi al canale attivare la campanellina e condividere e ricordarvi di scrivere i due commenti qua sotto chi lo fa e lascia un bel cuoricino e vi ringrazio veramente molto io vi saluto ciao 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 ciao